Noi artigiani residenti e operatori di varie attività, praticamente presenti qui su questa zona del Vastese, abbiamo più volte invitato gli amministratori a realizzare su questa piazza un'isola verde per attenuare i dissesti idrogeologici e praticamente gli interventi sono sempre stati rimandati con varie motivazioni e adesso praticamente invitiamo i nostri amministratori ad accogliere le nostre richieste con la rimozione di queste basole che sono assolutamente pesanti, l'installazione di un'area verde autogestita dai residenti e dagli operatori artigianali e commerciali e maggiore attenzione su un territorio che comincia a diventare pericoloso. Allora noi veramente residenti, già anticipato Paola, questa nostra operatrice artigiana che da anni sta combattendo anche lei insieme a tutto il quartiere affinché si realizzi finalmente quest'area quest'area verde che deve essere fruibile e l'amministrazione rispetto a queste nostre richieste ancora è un po' latitante è evidente che noi vogliamo aiutare l'amministrazione in un periodo di grave difficoltà economica per i bilanci delle stesse però rileviamo dei fortissimi anacronismi e delle contraddizioni molto forti in quest'area soprattutto se voi vedete questa area bellissima che è un'area pedonale intanto è diventata un'area transitabile da tutte le macchine a tutte le ore, tutte le auto passano da questa via adriatica la passeggiata come potete vedere dalle immagini di questa televisione è piena di deiezioni canini e di orina dei cani la mattina e il pomeriggio ma non solo, questa è diventata un'area dove attualmente sto facendo questa intervista è un'area dove le auto la fanno da padrona tutte le notti come la fanno da padrona nella piazzetta di San Pietro noi non chiediamo una vigilanza assoluta da parte dei vigi urbani o delle altre forze di polizia ma chiediamo attenzione a quest'area perché questa è l'unica area pedonale, suggestiva, attrattiva per il turista non solo, ma è possibile che non si riesca a ottenere questo minimo risultato per un'area non dico densamente popolata ma che continua ad esercitare non solo fascino ma anche investimenti economici da parte di diversi operatori commerciali che qui vivono la loro vita e che qui esercitano i loro lavori guardate la piazzetta di San Pietro e via Cilea l'area verde serve anche soprattutto a scoraggiare l'uso dell'auto e il posteggio abusivo un'area verde significa questo, che le auto non ci potranno più né transitare né depositarsi tutti i giorni e tutte le notti grazie grazie grazie